Sono tornati. Sopravvissuti al giurassico, l'era dei dinosauri, la nuova attrazione di Zoomarin, il parco divertimenti di Roma. L'era dei dinosauri, scopri dal vivo il mondo che è solo immaginato. Un tuffo nel passato giurassico a Zoomarin alle porte di Roma, famiglie e bambini alle prese con i dinosauri e le uova stavolta sono grandi davvero e non di cioccolata. L'accoglienza non sembra delle migliori, una trentina di dinosauri a grandezza naturale che spuntano dal groviglio di una foresta giurassica. Ma la paura passa presto, la nuova spettacolare attrazione del parco Zoomarin sul litorale laziale festeggiata... ... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.